Noi tecnicamente siamo Probabilmente prenderemo il controllo No, Oron ancora sta guardando La pasta asciutta No, io penso che Comunque le summon Cioè sì, sono le persone Cioè sono personaggi che si trasformano In summon Perché comunque se ci fate caso Guardate all'inizio Ah, guardate all'inizio Dove c'è questo Vedete? Che praticamente Fa uscire le ali E tecnicamente si trasforma Quindi le summon Tecnicamente sono rappresentate Dai personaggi stessi Cioè sono alcuni che sono tipo Prescelti, cioè tecnicamente È come se fossero dei prescelti Che si possono trasformare Cioè noi stiamo conoscendo Praticamente le persone Vedete? Guardate Vedete la sopra in alta a sinistra Dove c'è la barra degli HP Praticamente noi abbiamo il simbolo Probabilmente di ciò che ci possiamo trasformare Di ciò in cui ci possiamo trasformare E magari noi stessi possiamo trasformarci in altro Tu vedi il bingo perché sei strabica Però in alta a sinistra c'è il simbolo Della summon E sotto con l2 Tu puoi cambiare La summon Quindi tu praticamente puoi trasformarti Puoi decidere in cosa trasformarti Cioè tu potresti praticamente Sbloccare le summon E decidere In che cosa trasformarti Ragazzi il bingo lo potete anche spostare Cioè lo potete togliere voi stessi probabilmente Cioè non devo essere io a toglielo Madonna poi che rottura di coglioni Che siede queste battute Veramente infelici Cioè io sto parlando seriamente Vabbè Vabbè lasciamo stare Cioè il succo Il succo è che io comunque Posso trasformarmi Cioè io ho la possibilità di potermi trasformare Allora qua per esempio non ci sono trasformazioni E questo penso che sia comunque una fase Precedente Perché comunque livello 13 Magari giustamente le summon non le hai Non hai la possibilità di sbloccarli subito Precision dodge Quindi si può schivare in maniera perfetta E poi precision counter Quindi ci sono schivate e counter Però non ci sono i parry Questa è una sequenza tipo animata Ed c'è l'evasione C'è tipo la schivata come sul 15 Quasi Che tu potevi schivare l'attacco E poi counterare Il combattimento è proprio Secondo me Cioè da quello che si vede Qua il combattimento è un misto Tra Devil May Cry E Final Fantasy 15 Anche perché In basso a sinistra ci sono gli item C'è la pozione C'è Strength C'è qualcosa che aumenta la forza E invece a destra Ci sono le tecniche Scarlet Cyclone Jump Poenix Shift E Rising Flame Che probabilmente si premeranno Con quadrato, triangolo, cerchio e X Perché gli attacchi saranno probabilmente R1 e R2 O comunque R1 l'attacco R2 la schivata O L2 la schivata L1 la parata Un po' come Altri giochi Diciamo un po' più action Che hai la possibilità Di fare questa roba No, non mi sembra tanto come Dynasty Warriors Cioè ci sono Orde di nemici Ma non credo che venga Vedete, cioè Ci sono i nemici Comunque Vedete già qua per esempio Ha 3 summon Livello 33 Con 3 summon Garuda, Ramu e Ifrit Quindi tu puoi trasformarti In più summon Esatto Più che altro La cosa importante È la storia Esatto Anche io Spero in una storia Particolare Non la solita La solita cagata E vedi In base alle mosse E in base alla summon Tu fai delle mosse diverse Comunque Guardate Con Garuda Abbiamo Aero Attack Ah no vedi R2 Attack Deadly Embrace Che sarà probabilmente Una mossa speciale E Jump Perché giustamente Garuda è Vento C'era anche sul 15 Con la collaborazione Garuda Nel momento in cui Cambia E diventa Ah no in questo caso Continua Ecco Cambia E diventa E diventa Ramoo in questo caso Perché questo Tecnicamente dovrebbe essere Ramoo O Titano Forse è Titano Si Titano Perché c'è Titanic Block Titanic Block Up Happy Happy E Wind Wind Quindi puoi cambiare Praticamente lo stile In base alla summon Che hai Visto E poi fa la finish Boom Che colpisce tutti La cosa che mi domando È cosa sono Quelle tre barre sotto Gli HP Che è una sorta di Limit Possibilmente che tu Accumuli la limit E poi la puoi fare Qui per esempio C'è Odino C'è Odino Shiva E Ramoo Visto Odin Zero Lì sulla sinistra Staggered Quindi c'è il sistema Di break Come sul Final Fantasy 7 remake Anche qui c'è Il Qui c'è anche Praticamente la stessa cosa Del 7 remake Lo staggered Che sarebbe tipo Una sorta di break Vabbè ma non Non fissatevi sul fatto Che Shiva sia Gentilana Eccetera eccetera Perché quelli sono Universi diversi Ogni Final Fantasy Ha il suo universo Qua siamo in un altro Universo Dove le summon Vengono rappresentate In un altro modo Cioè è sempre Stato così Cioè non Più che altro Il problema Si pone su opera Omnia Se vogliono inserire Questi personaggi Su opera Omnia Lì potrebbe porsi Il problema Ma anche in quel caso Secondo me Non c'è troppo problema Perché si può Si può comunque Arginare la cosa Come Garland E Jack Garland Cioè si può Tranquillamente Si può tranquillamente Ovviare alla cosa Quindi E ci sono praticamente Le skill di Odino Arm of Darkness Che in realtà è nuova Perché lui comunque Arm of Darkness Poi ci sono gli attacchi La sopra Che sono normali Gangnir Che sarebbe la lancia Di Odino Heaven's Cloud Che è la pioggia Quella di colpi Che poi fanno vedere Dopo nel trailer Visto? E ovviamente Con lo staggered Fai più danno Hai il danno moltiplicato Per 1,20 Perché giustamente Da breccato E là si accumula La barra di Odino Tra l'altro Si accumulava la barra A sinistra Si accumulava La barra di Odino È quasi come Su Opera Omnia Che praticamente Hai la possibilità Tramite la summon di Odino Può essere Che le summon Abbiano anche Delle passive Che si attivano Se tu le tieni Ecco qui invece C'è Shiva Visto che è tipo Che utilizza Le magie di ghiaccio Quindi con Shiva Infatti L'ha L'ha ghiacciato Blizzard Attacco Cold Snap Che sarebbe Appunto L'attacco Che addirittura C'era anche Su Final Fantasy 8 Questo attacco E Jump Che è lei Che praticamente Schiocca le dita E poi Fa partire No Nell'8 no Perché nell'8 C'ha l'onda energetica Ghiacciata Dov'era Forse nel 15 Che faceva lo snap E poi anche qua Attacco Danno 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 Qui vedi Cambia le summon Questa è Fenice For Enix Shift Fire Attack Jump Anche in questo caso Più che altro Non capisco Quando si scontrano Più summon Che cosa vuol dire Snap E lo schiocco Sì Ecco Qua per esempio Cosa abbiamo Sempre Fenice No vabbè Qua è sempre lo stesso Ecco Questa è la cosa Che si deve capire Le summon Che si scontrano Tra di loro Perché le summon Si scontrano Tra di loro Cioè A parte Quel fatto Che c'è Phoenix Con Akon of Fire Che non è Ifrit Cos'è Akon of Fire Cioè Potrebbero essere Delle versioni Delle summon Modificate Cioè Potrebbero essere Comunque Delle Modifiche Alle summon Alle summon Normali Cioè Cioè Che poi Praticamente La Fenice Si è distrutta Da sola Cioè La Fenice Shottata Proprio Hellfire Boom Shottata Poi Titano Contro Ifrit Che però Ifrit Se ci fate caso Ha lo stesso disegno Delle Icon of Fire Vedete Ha lo stesso disegno Quindi Cos'è L'Icon of Fire Cioè Qui viene chiamato Icon of Fire E poi Forse Dopo che lo conquisti Si presenta Come Ifrit Cioè Tu Praticamente Lo riconosci Come una sorta Di Esper Del fuoco Tipo Perché Icon A sto punto Dovrebbe essere Il covalente Dell'Esper Probabilmente E nel momento In cui tu lo batti Ti si presenta Come Ifrit Ad esempio Questa potrebbe essere Un'idea Però Qui per esempio Abbiamo entrambi i nomi Quindi perché Qui abbiamo Entrambi i nomi Cioè Ifrit E Titan Perché abbiamo Entrambi i nomi 330k 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 di danni A punti interrogativi Ifrit che qua fa danni A punti interrogativi Non si sa Tipo eject Quello Potrebbe essere Sin Poi Liquid Flame Diamond Dust Ok Questo è giusto Poi Ifrit Contro Garuda Anche in questo Caso Gli ha strappato Un braccio Addirittura Gli ha Staccato Un braccio Bahamut Contro Odino Ifrit Contro Bahamut Anche in questo Caso I nomi che vengono Ripetuti nella host Bahamut Ifrit Vedi L'immagine L'immagine È praticamente Fenice Contro Ifrit Quasi Cioè Sembra Quasi Fenice Contro Ifrit Quindi Ifrit È cattivo Sì che Tanto Anche nel 15 Ifrit Era comunque Cattivo Quindi Ci potrebbe Anche stare Ifrit Cattivo In realtà Sì Ci può Stare Che Ci può Stare Che Le Summon Tu Tu possa Sbloccarle E una volta Che le Sblocchi Ti fanno Vedere il nome Ti fanno Vedere tutto Sono d'accordo Ci sta Come ragionamento Posso anche Accettarlo Però Perché mi fai Vedere poi Il combattimento Dove Nelle Summon Tu hai I nomi A disposizione E vedi Praticamente I nomi Che si Scontrano Tra di loro Quella È la cosa Che non Capisco Guardate Quello Che si Vede Dopo Awaken Child Of Fate Awaken Child Of Fate Awaken Ifrit Quindi Svegliati Ragazzo Della Profezia Quello Che è Svegliati Ifrit Quindi Se Noi Siamo Ifrit Siamo Noi Cattivi Perché Se noi Andiamo A vedere Allora Se noi Andiamo A vedere Quando Presentano Le Summon No Minchia Sono andato Troppo Indietro Se voi Vedete Quando Presentano Le Summon Spuntano Anche Dei Volti Fenice Che è Il Ragazzino Quindi Potremmo Fare Questi Collegamenti Fenice Che è Il Ragazzino A meno Che Quando Muoiono Tu puoi Avere La Possibilità Di Trasformarti Nella Loro Summon Cioè Come se Tu Avessi La Capacità Di Assorbirle Le Loro Summon Mi Sembra Una Minchiata Questa Anche Perché C'è Qualcuno A terra Con C'è Qualcuno Con Lui C'è Qualcuno Qualcuno Accanto A lui Vedi Che i Capelli Gli Stanno Diventando Tipo C'è È lui Stesso Fenice Che si sta Praticamente Prendendo a fuoco Da solo E lì C'è Qualcuno Che gli Sta Toccando La Gamba E Potremmo Essere Noi O Qualcun Altro Vedete C'è Qualcuno Lì Che gli Sta Toccando Tipo La Gamba Che lo Sta Ferrando Perché Vedi Il Ragazzo E Finisce Si Eh Il Padre Potrebbe Essere Chiunque Va Bene Ok No Ava Non ci Legge Non vi Leggo Sì perché C'è La Scena Dove Praticamente Si vede Lo schizzo Di sangue Che gli Che gli Non dà La faccia Quindi E Poi Si vede La Fenice E Poi Si Vede La Fenice Poi C'è Titano Che Potrebbe Essere Questo Emergumeno Perché Ovviamente Ci sta Come Anche Prestanza Fisica Titano Ci sta Garuda Che è Quella Lì Che è La Stessa Tizia Che abbiamo Visto Praticamente All'inizio Questa È La Stessa Tizia Che si Vede All'inizio Che Poi Le Spuntano Le Ali Da Dietro È Lei Quindi Ogni Persona È Praticamente Una Sorta Di Salmon Cioè Ogni Ogni Persona È Una Salmon Praticamente Ramù non Si Sa Chi È Perché Ramù si Vede Soltanto Si Vede Soltanto Già In Forma Salmon Quindi Non Si Vede Shiva Stessa Cosa Tra l'altro Shiva Completamente Piatta Non ha Tette Shiva Cioè Nei vecchi Nei vecchi Giochi Era tipo Bella Prosperosa Niente Qui Chirurgia Chirurgia A meno Che Magari Nel trailer La fanno Vedere Così E poi La faranno Vedere La faranno Vedere Nella versione Definitiva Pilla Odino Stessa Cosa Non sappiamo Chi sia Odino Bahamut Che non lo sappiamo E poi Ifrit E poi Ifrit Bank Fin E poi Ifrit Quindi Noi saremo Ifrit A questo Punto Cioè Il nostro Protagonista Sarà Ifrit 100 Su 100 Il Bambino Che è il Fratello Cioè Che dovrebbe Essere Tecnicamente Il fratello Più Piccolo E la Finisce Quindi Vuoi Vedere Che I due Fratelli Si scontreranno Per un Motivo Per un Altro A più Tette Odino Probabilmente Titano A più Tette Cioè Potrebbe Essere Già Questo Il plot Della Trama Cioè Ifrit Contro Finisce Dove Finisce Essendo Il fratello Più Piccolo Viene In un Qualche Modo Soggiocato Viene Non lo So Viene Comunque Gli fanno Il lavaggio Del cervello E lo Mettono Contro Il fratello Che è una Trama Che comunque È già Stata Vista E rivista Spero Che non Sia Così Cioè Spero Di non Aver Capito La Trama Già Solo Dal Trailer Perché Se fosse Così Io Mi Veramente Non Lo Posso Dire Perché Va Contro Le Regole Di Twitch Però Ve lo Dico In un Termine Che Tutti Quanti Possiate Capire Mi Sayori Così Penso Che Sayori Da Doki Doki Per Chi Magari Non Avesse Capito La Citazione Bene Final Fantasy Quali Fratelli Si Scontano Bash Con Suo Fratello Bash E Gabrant Poi Golbez E Cecil Cioè Ce ne sono Di fratelli Che comunque Si scontrano Poi vabbè C'è anche Addirittura Lo scontro Padre Figlio Con Tidus E Jekt Cioè Anche Kuja E Zidane Sono fratelli Anche Kuja E Zidane Tecnicamente Sono fratelli E si scontrano Nel nove Quindi Poi Poi Oddio Poi Gli altro C'è Boh Non ci faccio Caso Nel quindici Addirittura C'è Ardyn Con Con Noctis Che sono Zio E nipote In teoria Secondo la loro Discendenza Sono zio E nipote Quindi Immaginate Immaginate La cosa E poi c'è la parte finale Awaken Child 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 Of Faith Però Vedi Ifrit Qua Sta colpendo Un altro Ifrit Sono Due Ifrit Vedete Sono Due Ifrit Sono Due Ifrit Perché Sono Due Ifrit Sono Due Sono Due Ifrit Non lo so Per la Complessità Con Con la Quale Stanno Facendo Vedere Le C'è una Spiegazione Troppo Semplice C'è Tecnicamente Sarebbe Boh È una Spiegazione Un po' Troppo Semplice C'è C'è qualcosa Sotto Di più Di più Particolare Secondo me Perché Vedi Child Of Faith Awaken Ifrit C'è C'è un Qualcosa Che è Legato A Ifrit Che di Conseguenza È Legato A Lui Ma Non Lo sappiamo Cos'è C'è C'è Se così Fosse Allora Tutti Possono Diventare Tutti Che da un Lato Ci può Anche Stare Come Cosa Vabbè Sì Se c'è Vabbè Sicuramente L'ispirazione A 14 È presente Su questo Su questo Ne sono Sono d'accordissimo Però sì A sto punto O tutti Possono Diventare Tutti Però Perché Farmi Vedere I personaggi Con le Salmon Collegate Cioè Non avrebbe Senso A quel Punto È Anche Vero Che Il Protagonista Quando Combattiamo Poi Ha Diverse Salmon Che può Sfruttare Quindi Effettivamente Tutti Possono Diventare Tutti Però Mi sembra Un po' Particolare Come cosa Mi sembra Mi sembra Un po' Particolare Come cosa Tra l'altro Mi si è scaricato Anche il telefono Nel frattempo Ne potevo Approfittare Per caricarlo Durante lo State of Play Devo Documentarmi Su come Funziona L'esammon Sul 14 A questo Punto Perché Perché Sicuramente Ci sono I collegamenti Col 14 Per alcune Meccaniche O comunque Per alcune Teorie Possibilmente Però Il 14 Non lo Conosco Quindi Non Non so No no Oro Non sta Facendo Niente Ragazzi Non L'ho Fatta La boss Rush Non vi Preoccupate Anzi Ora Probabilmente Stacco Pure Perché Tanto Non ha Senso Ci provo A farla Da solo Vediamo Magari Mi metto Mi metto Un pochettino A vedere Ma Non Credo Per ora Di fare Altro Perché Comunque Già luna Preferisco Preferisco Riposarmi Sono anche Abbastanza Stanco Oggi Sono stato In fiera Quindi Ho fatto Tutte cose Anche di fretta Quindi Preferisco Un attimo Preferisco Un attimo Rilassarmi Ma Non potrei Fare Altrimenti Perché Ho il telefono Che è praticamente Al 10% Quindi Non potrei Sì C'è molto Caldo Di giorno Attorno ai 30 Grad Se non Oltre E la sera Vabbè la sera Siamo sui 22 25 Più o meno Ma di mattina C'è proprio Caldo 30 E oltre No domani Neanche vado In fiera Probabilmente Non so Non so se vado In fiera Quindi Ci vedremo Poi direttamente Con i ceppi Anche perché Domani non penso Di andare Non c'è nulla Che mi interesse In fiera Poi ci andrò Sabato e domenica Perché sono gli ultimi Giorni E sono quelli Sono quelli Diciamo Sono quelli più ricchi Fondamentalmente Poi è inutile Che provo la boss Lasce che se ne Stanno andando Tutti Ormai Quindi che cazzo faccio Sì sì Stasera c'era L'ascoteca Ma oddio Non so Non so effettivamente Come sono combinati Ma non lo so Io poi domani Capace me la penso E vado lo stesso In fiera Io poi sono così Un colpo di una cosa E poi ne faccio un'altra E in base a come Mi sveglio domani E in base a come Mi sveglio domani E poi deciderò Deciderò cosa fare Però prima voglio riposarmi Voglio andare a letto Voglio dormire Poi domani Mi voglio svegliare Con calma Voglio fare colazione Magari preparo anche Il video di Sais Così già Mi levo un po' di lavoro Visto che comunque Poi sabato e domenica Essendo alla fiera Sarò abbastanza occupato E sarò anche Abbastanza stanco Tra l'altro Domenica Salta anche Capped Per la gioia di Leia Visto che comunque Farò tardi Dalla fiera Comunque dalla mostra Cioè Dalla sfilata cosplay Quindi Ma che devo vedere Preordia A me non me ne frega niente Io ordino tutto Poi Chi se ne frega Tanto tra poco Il mio compleanno Quindi Cioè tra un mese Il mio compleanno Quindi magari Ricevo qualche regalo In più Da qualcuno Da fuori Magari qualcuno Che mi pensa Mi fa un regalo extra Esatto La sfilata Finisce tardi Perché comunque Ci sarà la premiazione Ci sarà tutte le cose Cioè Durerà tutto il pomeriggio Quindi io sarò lì Tutto il pomeriggio Però se riesco Se riesco Faccio live Con La mostra Dei cosplay Faccio Faccio live E vi faccio vedere E vi faccio vedere Tutti Vi faccio vedere La sfilata Dei cosplay Perché comunque Il power bank Ce l'ho Quindi il power bank Non è un problema Devo trovare l'asta Se trovo l'asta Quella per i selfie Che magari mi aiuta A tenere il braccio fermo Perché il treppiedi Non ce l'ho Il treppiedi Non ce l'ho Quindi Devo vedere Se posso mettere La cosa Come cazzo Si chiama Cioè se ho il treppiedi O comunque Il bastone Per i selfie Che magari Lo riesco a regolare In qualche modo E quindi Sì E quindi sicuramente Riuscirei poi A fare qualcosa La Cioè A meno A meno Riesco a darvi Un'inquadratura Decente Però Si potrebbe Ci potrei provare Non ho mai fatto Live col telefono Quindi non so Come funziona Non so cosa Devo fare Quindi Quindi ci proverò La stessa Vediamo La cosa che più Mi fa paura È la connessione Speriamo che la connessione Lì vada bene Che regga bene Che sia Che sia buona Perché Si che siamo all'aperto Quindi In realtà Non dovrei avere problemi Però col fatto Che ci saranno Tanti dispositivi Attaccati Ci saranno tante cose Probabilmente La linea La linea è un po' Un casino No ma anche Se ci fosse il wifi Non utilizzerei mai Il wifi Dell'Ethera Comics Cioè Farebbe totalmente Cagare Lentissimo Sfatto Come 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 non Mai Proprio Totale Vabbè Comunque Niente Qua se ne stanno andando Tutti Quindi niente A posto Posso staccare Ho notato Che vi interessa Molto Quindi Quindi niente Me ne posso andare A cagare anche io E E va bene così E vabbè Oh se ne sono andati Giustamente non gli interessa Quindi ragazzi Io stacco Vi metto a fare un po' La boss Lascio vediamo se riesco a fare Qualche cosina Prima di andare a letto Se no poi ci riproviamo Con calma Magari un altro giorno O domani Magari pomeriggio Visto che sono a casa Se sono a casa Altrimenti Altrimenti Poi ci vedremo Direttamente Con i ceppi Ragazzi Vi do la buonanotte E Alla prossima Bye bye